Gli buttò una nocciolina. A Villa Borghese si stava meglio che nelle vie del centro. I pensieri fluivano più facilmente. È possibile che gli ordini di modifica del decreto delegato siano stati emessi al solo fine di screditarmi. Perché? Il sottosegretario all'agricoltura si fermò davanti a una bancarella di dolciumi e comprò un panchetto di noccioline americane. Sedette su una panchina e con l'attenzione del politico che stava per essere trombato pensò a come poteva districarsi. Uno scogliattolo gli si avvicinò. Eccoti qui disse e gli buttò una nocciolina. Ci voleva una bella presunzione a credere di non avere nemici nell'ambiente politico dove dominava Lio. Dieci anni prima il politico era arrivato a Roma dall'Abruzzo, praticamente dal nulla, senza un amico nel grande giro della politica romana. Per me si aveva aspettato pazientemente che il segretario del suo partito lo ricevesse e poi ne aveva scalato la stima in un modo che qualunque ben raccomandato lo avrebbe invidiato. E adesso qualcuno gli aveva innescato la bomba del decreto delegato per colpirlo. Il sottosegretario sgusciò una nocciolina e la mangiò. Era buona. Gli venne in mente che non aveva pranzato. Si chiese. È possibile che le rettifiche imposte al decreto delegato non mirino a fare il mio danno ma attentino al mio partito? Si rispose che in politica la violenza della mente e il sabotaggio di un partito attraverso un suo uomo o di un uomo attraverso il suo partito è la norma. Violenza della mente, violenza dell'io che si esprime in politica, violenza della personalità che vuole avere la meglio sugli altri io. Lo scogliattolo gli si fece più vicino. Un gabbiano rimpinsato di rifiuti, grosso come un'aquila, planò all'improvviso e puntò sul sottosegretario che lo evitò piegandosi verso lo scogliattolo. Fu un istante ma l'uomo si gelò per la paura ed emise una preghiera naturale. Mamma mia! Cessò di pensare a chi lo voleva trombare e dette un'altra nocciolina allo scogliattolo. Miracolo dell'ampliamento della coscienza individuale. Miracolo della preghiera invocata che è un bacio dello spirito.